cari figli il mio cuore immacolato sanguina guardandovi nel peccato e nelle abitudini peccaminose vi invito ritornate a dio e alla preghiera affinché siate felici sulla terra dio vi invita tramite me perché i vostri cuori siano speranza e gioia per tutti coloro che sono lontani il mio invito sia per voi balsamo per l'anima e il cuore perché glorifichiate dio creatore che vi ama e vi invita all'eternità figlioli la vita è breve approfittate di questo tempo per fare il bene grazie per aver risposto alla mia chiamata e dopo le parole che toccano profondamente il cuore e l'anima di tutti noi vi saluto e vi abbraccio la vostra piccola matita del cuore grazie